Doppio appuntamento questo fine settimana a Ferrara Off, sabato e domenica, protagonista Enrico Messina, di due pièce, di due performance teatrali completamente diverse tra di loro. Allora cominciamo dal sabato, che cosa succede questo sabato a Ferrara Off? Sabato sera ci sarà uno spettacolo che si chiama La storia di Taborre e Maddalena o del raccontar mangiando, in cui io e un fisarmonicista con cui lavoro da tanti anni abbiamo risolto il problema della cena dopo spettacolo degli attori, perché abbiamo impiantato lo spettacolo intorno a una tavola e al contrario di come accade di solito, in questo caso sono gli attori che mangiano, tra l'altro gusteremo i piatti della tradizione ferraresi, i cappellacci di zucca e intorno a questa cena costruiamo il racconto di una storia, una storia importante, una storia popolare del Gargano che è stata presa e messa dentro una storia popolare siciliana e riadattata nel contesto della storia dell'uomo che piantava gli alberi di Jean Jeunot. Una storia sull'importanza di raccontare, sul senso di raccontare e disseminare la memoria, però mangiando. Allora insomma l'appetito viene mangiando vedendo questa performance teatrale, ma in realtà poi voi continuate, o perlomeno nel tuo caso si continua anche domenica pomeriggio, contesto diverso, parliamo di teatro ragazzi, ore 17.30 con un appuntamento insomma sempre a Ferrara Off. Orlando furiosamente solo rotolando che è un spettacolo che porto in giro da molti anni dedicato, in qualche modo ricavato, ispirato all'Orlando Furioso che a Ferrara ovviamente dire che di casa è poco e che mi ha accompagnato quasi in tutto il mondo, in cui racconto a partire da una serie di spunti dell'Orlando Furioso, ma anche da una serie di spunti popolari, dalla riscrittura di Calvino dell'Orlando Furioso, racconto a modo mio questo testo straordinario di Ariosto che è un testo visionario, ma che ve lo dico a fare a voi?